Non viva, non viva! Mi viene in mente di aver preso una sassata in una gamba proprio qui e mi dico chissà se era quel poliziotto lì proprio quello che mi ha tirato la sassata a me Ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato nessuno più al mondo deve essere sfruttato Come ti chiami tu? Paolo Pietrangeli Noi rivolgiamo le nostre facoltà e non solo per averle ma per continuare a portare avanti il nostro lavoro Il secondo obiettivo che si era detto è la creazione di quadri rivoluzionali Poi sono arrivati 240 della manovalanza fascista all'università e hanno distrutto tutta la facoltà di giurisprudenza Tante ingiustizie che andrebbero messa a posto Io per scherzo dico sempre vorrei diventare il presidente della Repubblica Mi piacerebbe molto e con l'aiuto penso di 500 o forse mille donne Credo che riusciremo a mettere a posto l'Italia Sfremate, sfremate, le streghe sottornate Sfremate, sfremate, le streghe sottornate Sfremate, le streghe sottornate